Al via dal 27 settembre la campagna vaccinale contro il vaiolo delle scimmie. Asle Vercelli è il centro di riferimento individuato dalla regione per il Piemonte settentrionale. All'ambulatorio dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli afferiranno le persone che desiderano vaccinarsi dalle province di Vercelli, Novara, Biella e Verbano, Cuso e Ossola. Le persone elegibili di vaccinazione saranno individuate dagli ambulatori dedicati alle infezioni sessualmente trasmissibili territoriali. E' comunicata a Vercelli che provvederà a fissare un appuntamento vaccinale ricontattando direttamente l'interessato. Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, al momento le modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l'efficacia delle misure non farmacologiche, fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa contro il vaiolo delle scimmie. Tenuto conto dell'attuale scenario epidemico e della limitata disponibilità di dosi, la vaccinazione come profilassi preesposizione a partire dai 18 anni d'età verrà offerta inizialmente a persone di laboratorio con possibile esposizione diretta ai virus o altri soggetti a rischio definiti dal Ministero della Salute. Gli ambulatori IST verificheranno che i soggetti interessati alla vaccinazione che rientrano nei criteri di rischio rispondano ad ulteriori due criteri. A distanza di almeno quattro settimane dalla somministrazione di un vaccino anti-SARS-CoV-2, l'eventuale dose di vaccinazione antivaiolosa eseguita in passato. I soggetti mai vaccinati contro il vaiolo riceveranno due dosi a distanza di 28 giorni, mentre i soggetti che hanno già ricevuto in passato una dose di vaccino antivaioloso riceveranno una sola dose. Per informazioni è disponibile il numero di telefono 334-10-21795, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 o la mail vaccinazione.vaiolo-aslvc.piemonte.it. Non è possibile prenotare la vaccinazione a questo numero perché l'eligibilità dei soggetti può essere fatta solo dai centri MST individuati, Vercelli, Novara, Biella, Verbagna. Invito le persone a rischio a prendere contatto con gli ambulatori IST di competenza territoriale per poter procedere rapidamente a stilare il calendario vaccinale, spiega il direttore generale dell'ASL Vercelli, Eva Colombo. Le vaccinazioni saranno assicurate dal SISPE e dalla SC Malattie Infettive nella massima discrezione.